Jumbo Uana Dicevo io Ciao a tutti ragazzi come sono Tocic Suri e benvenuti in questo nuovo video Oggi siamo tornati sul canale con il buon Mike Shosha In questi giorni stiamo veramente grindando Donna ragazzi abbiamo registrato video su video su video Forse alcuni li avete già visti in passato Altri li avete visti sicuramente sul canale di Mike Shosha Altri li vedete in futuro Oggi però siamo qui in una delle mie serie preferite Dove ogni tanto porto anche dei miei amichetti Cioè se mi fai ridere ti seguo Però in questa edizione visto che c'è il buon Michele Dovrete far ridere entrambi Allora ragazzi io sono un uomo dalla risata difficile Però quando rido poi dopo rido Sì allora più che altro Mike ride per cose sue Cioè è un po' particolare come umorismo Il che sarà ancora più di... Dai ridi per Tigerfregna cazzo Ah ragazzi scusate Scusate voi conoscete Sburo di Tigerfregna Pausissia Sburo di Tigerfregna Pausissia è andata a cercare Seguiteci su Instagram ragazzi Per avere la possibilità di partecipare anche voi nel prossimo video E a 30.000 like Nuova puntata No aspetta A parte ragazzi seguitelo purello è che è stato usciato bannarlo Però vabbè Per colpa di Stormi maledetto Ah anzi per colpa di Stormi no per quello che scrivi 50.000 mi piace E tornerà Se mi fa ridere ti pago Aaaaaah Ci sta ci sta Che tra l'altro io in realtà lo volevo fare perché Per giusto in questo se mi fa ridere ti seguo Dovremmo seguire entrambi il profilo Quindi volevo fare se ci fa ridere ti pago Ragazzi se siete belle ragazze Vi segue anche lui Quindi paracaduta in spalla Let's go Sarà un video abbastanza lungo McShosh Oddio signora No che schifo Ah se l'avete visto in eccesso Ah no si Lo sciacquano E' stata una gringiata in realtà A me non mi ha fatto ridere mai Però 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 lì sta a ridere No 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 Allora Ridere è un'altra cosa Lo sapete Quando io scoppio a ridere Scoppio a ridere Però questa è stata molto divertente Aspetta posso dire una cosa Lo vedete far ridere Mandategli la foto Perché quando voi mandate le foto No viene così Clicca per sbloccare Mandategli un cazzone così grosso Vedete come ride poi Vedi Mi ha fatto ridere l'idea Adesso mi segue Poi dal prossimo video ragazzi Tutti i cazzi Il classico scappellotto Il leccamuffo Quello si chiama Il leccamuffo Vabbè questo Scriveteci nei commenti Come si chiama dalle vostre parti Oh te l'avevo detto Che lo mandava Eh te l'avevo detto Te lo mandava Si può fare vedere Questo su YouTube Signore Ezio ma che Signore Ezio Perché altrimenti Mi shadow bannano anche su YouTube Guardali tutti Niente Non ci stanno Facicolazione benigna Queste sono Vedi queste cose Che avevo qua Erano fascicolazioni benigne Grazie ragazzi Che siete anche medici Torrenzo Macchina Una chiesa Non si dice Non si dice ragazzi Ma la maronnazza Ma la maronnazza In una chiesa Cioè questo ci ha perso pure tempo No Mi fai No No Ma no Ma hai fai ridere Che dici che ci ha perso tempo Cioè Ma adesso che succede Chi lo dice qui Perché Cioè non mi ha fatto ridere lui Ma mi ha fatto ridere te Ma mi ha fatto ridere Noi che perdiamo tempo Che ci ha catturato 20 secondi di vita Ok no Allora non vale questo ragazzi Dobbiamo ridere proprio subito Cioè non dobbiamo essere noi Che facciamo ridere Siamo attenti cazzo Ci siamo andati vicini qua Ad esempio quando è domenica Devi farti la marenda No Con la Tutta Che Ma la C'era Una E E E' credo il grande E' ricordo Praticamente Arrivi là Tipo Anderzo Succhini No In tutta Poi Riva la mia parte Dove devi sranocchiare Qualcosa No Un italiano E' lì E' perfetta La vedi Ed è lì In quel momento Che La prendi Sai già Cosa accadrà Ma tu la metti Comunque Poi Se ti tagli Vai a scuola C'è un processo chimico Che nessuno Ha mai capito Realmente Arrivi là C'è francese No Pure con i bestemmi Certo Cos Io non ho capito niente Di quello che ha detto Ma poi c'è lei Distrutta Perché quella crostatina È del cazzo E non lui era mai Integra a scuola Mai Sempre Mai Ma che cazzo Ma che cazzo È Io ho capito Solo vai lì Con il zucchino Forse parlava Della crostatina Ti rendi conto Perché poi ho detto Non arriva mai Integra Sì però Un po' più di Chiarezza Perché non abbiamo capito Nulla Un abbraccio Un abbraccio Lo sai perché Molise Non funziona La wifi Perché c'è campo Basso Invece Per Questo perché abbiamo detto Anzi Mike ha detto Nelle storie Mandatemi le freddure Esatto Scemo pazzo Sei un po' uncartano Questa zinna Fai cagare Poglione di merda Seguilo Abusi sessuali Allora Lo sai perché Io l'ho visto Stamore E' stato visto Perché loro sanno Che mi fa troppo ridere Il diretto Il diretto Svai Però Dobbiamo ridere Entrambi ragazzi Intanto Perché mai Che poglione Stai ripensare Alla meme del cinese Che fai Sì E su E su E su Sta cazzo D'allergia E su E su E su E su E che cazzo Perché quando io Quando giravano i primi telefoni Ragazzi C'eravamo tutte Sto cazzate Tu hai mai sentito La drin drin Rispondi al telefono Cioè Noi C'eravamo così Non c'era internet Abbiamo il primo vincitore Abbiamo il primo vincitore Giulio 2808 Guardi segui 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 Se l'è meritato Se l'è meritato Grande contenuta Grande content creator Guarda se tu fossi uno youtuber Vi sei mai chiesti Se Giulio fosse Fosse uno youtuber Adesso Riprenditi Rientra nel mood Perché altrimenti potresti essere Portato a ridere Per cose che non ti fanno ridere Ecco Delinquenza a scuola Ehm Madò Mi sto convincendo sempre di più Che c'è sempre gente più delinquente Tra i miei follower Siamo in quaresima Perché mangi la carne Cosa fai Don Renato Sì La segnalazione era giusta Mangia la carne L'ho vista Che la mangiava Ah sì Sto tizio l'ho visto Ma non è suo il video L'ha rubato Oddio questo è scappato Da carcere Che cazzo è fuoco da Azkaban Complimenti per le scuole Comunque le strutture delle scuole italiane Sono sempre molto sicure Veramente molto buone Però ragazzi Per il momento Abbiamo riso solamente Perché c'è stato l'effetto La nostalgia Ma un'altra mandata Ah 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 Qua bisogna ripostare un attimo Ah codice puro Qua bisogna ripostare ragazzi Link in descrizione Oddio Questo ci credo Questo ci credo L'Ellosalemme 10 Eh madonna che cos'hai Un piragna Se fai così guarda che fa Temo mozzicato Qua ti sarebbe stato bene Il directed by però Esatto Che era la franca No questo Questo io tolto Cioè Sto sbiascicando Ah questo si fa male 100% Easy Sta ubriaco lesso Olio cuore Mangiar No è questo Ridere come il riso Tu poco fa Che è un po' di gusto Ragazzi Mi andate a far ruba Qualche barzelletta mia Che sicuramente Non verrete seguiti ragazzi Esatto Te ne racconto una Ma c'è sta Sherlock Holmes Con Watson E sta Watson che becca Sherlock Holmes con una ragazzina Sta fa cose ovviamente illegali E gli fa A Sherlock Holmes 2 Ma cante regoli Si è andata con una ragazzina Delle medie E lui gli fa Elementary Watson Vabbè Stendiamo un velo pietoso Su questa barzelletta Allò Pronto potenziali No Signori il vento sta cambiando E che sta giusto Ecco però Se almeno Non lo conoscevi Si Ho visto mille volte Mi va a parire Però mi ha fatto troppo ride Signori il vento sta cambiando Sta cambiando Che poi non è mai sua Non è sua E vabbè Vabbè Dai Faccio pazzo ride Su No però Se con lui poi così Infragiamo una regola Che i video devono essere tuoi Mi dispiace Lo so però È stato bello Ma i video devono essere tuoi Ecco questo qua 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 Mi gioco tutto Ma che cosa Che sta succedendo A chi l'ha mandato ha detto Ah si sarà stato sicuramente divertente No no questo fa ride questo casca No S'ammazza male No No Il video sta si chiamata La basta l'impennata 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 Questa si può Ma 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 Ride Guarda che bollo Video Ma che cazzo ridi Dai Se Ve la fa il pazzo Ve la fa l'impennata Vabbè poi con quei capelletti a ultimo samurai, vabbè Vabbè la scuola tutta Ma vabbè che vuoi dare un cazzotto Ti è volato pure la rabbata Lo bello Mirko Vai lo bello Mirko, salutaci il tuo amico Che penso insomma stia bene Speriamo per lui, speriamo sia ancora vivo Lo bello Mirko Quindi ne abbiamo seguiti già due Due e mezzo Niente male Che cazzo fanno? Ok, non ho capito Non ho capito Ah i gatti Annaggia, prova a non muoverti Prova a non muoverti già Lo sapevo che sei esaltato Molto bene Ingegneri, quella era la classica ingegneria all'università Non ce l'ho fatto Guarda come si è alzato Guarda, senta, guarda come si è alzato Guarda, senta, guarda Guarda quando sbatti la rompe Guarda la faccia fa Ragazzi, io mi fermo qui perché altrimenti Mike Shosha mi fa seguire il 96% dei miei follower Sei sicuro? Sì, basta Vabbè, è stato un episodio però proficuo Vabbè, abbiamo l'isola Ci siamo divertiti ragazzi Bravi ai vincitori, complimenti Se volete partecipare al prossimo episodio Avete la possibilità di essere seguiti Lasciate intanto un like Seguitemi su Instagram Seguite anche il buon Michele E poi usate il codice burro Su Burpowders, link in descrizione Ma soprattutto a 50.000 mi piace Che sono tanti ragazzi Ma se vi impegnate ci potete Facciamo se ti fai Se mi fai ridere ti pago Noi ci vediamo al prossimo video Wooo